buongiorno buongiorno buona domenica a tutti che bella domenica che bella giornata non so come siete svegliati voi io ho dormito stanotte raga ho dormito perché ieri ero veramente cotto ho dormito tre ore siamo partiti alle sette del mattino chi è partito con me il mio amico Roberto è partito da Cremona lui è partito ancora prima per poi passare qui da me e poi siamo partiti in direzione Ascoli da casa mia ad Ascoli ci sono circa 480 km quindi più o meno 1000 km tra andate e ritorno eravamo una macchinata di sette ed è stato un bel viaggio ditemi la vostra ditemi la vostra ricordatevi di commentare qui sotto iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto supportate il canale questo secondo canale mi raccomando ve lo richiedo andate a dare un'occhiata al primo canale perché questo è il secondo c'è anche il primo e sul primo sto iniziando ricominciando più che iniziando ricominciando a pubblicare ed è già uscito un video molto speciale ma parliamo della partita parliamo della trasferta della partita trasferta ragazzi emozionante divertente alcolica stancante massacrante calda da morire è stata una giornata perfetta è stata una giornata perfetta ragazzi perché queste partite lo scorso anno noi o le pareggiavamo o le perdevamo perché ditemi una partita che lo scorso anno ci è girata bene l'Ascoli non meritava la sconfitta l'Ascoli non meritava la vittoria noi non meritavamo la sconfitta noi non meritavamo la vittoria ma il calcio è questo la zampata finale che ci fa portare a casa tre punti e ci colloca al secondo posto in classifica con una partita in meno a un punto se non erro dal Verenzia una bellissima partita è stata una partita maschia arbitro per me non tanto all'altezza perché non lasciava tanto giocare fischiava praticamente tutto infatti ha sofferto un po' questa cosa segre che gli ha fischiato praticamente qualsiasi cosa segre è un lottato allenato comunque partiamo dalla formazione farò tipo una specie di pagellata anche se non darò i voti Pigliacelli poteva pure non giocare povero Piglia praticamente inoperoso non ha praticamente toccato quasi palla a parte un'uscita nel finale difesa 4 con Aurelio non ha giocato l'uno perché era appena tornato dalla nazionale USA è entrato poi nel finale ha giocato Aurelio tutta la partita cioè buona parte della partita per me non ha fatto una brutta partita a parte il giallo che ha preso un po' forse evitabile ma ha fatto bene ogni tanto il fallo va fatto dall'altra parte ha giocato Mateio che si conferma dopo la partita contro la Feralpi dove ha giocato una gran gara quest'oggi l'ho visto anche più propositivo in fase di ieri l'ho visto bere anche in fase propositiva continua così Alec ti vogliamo bere in mezzo Lucioni dice caro e ragazzi ma chi sono due extraterrestri ma soprattutto a parte che insieme sono bellissimi rubelli ma raga ma Lucioni ma che cos'è? ma lo zio Lucioni ma che cos'è? mi trovate un aggettivo per Lucioni? perché non me lo spiego? c'era un motivo se sto Cristo ha vinto un botto di campionati è un leader nato è un malletà non conta un cavolo non conta veramente nulla ragazzi è un leader clamoroso clamoroso ed al vivo ragazzi è mostruoso mostruoso cioè io veramente Lucioni lo colloco come uno dei difensori esperti più forti che abbia mai visto indossare la nostra maglia siamo in serie B è vero ma mamma mia quanto mi piace e cercano i ragazzi pulitissimi ma in coppia sono bellissimi davvero molto forti per me andiamo avanti centro campo centro campo giochiamo con Anderson Stulaz e Segre partita non al top per Anderson che comunque si è impegnato a corso tanto geometrie per Stulaz che a parte aver giostrato il centro campo non ha fatto quel passaggio che mi aspetto io da un giocatore come lui ma ci può stare e Segre è solita corsa e quantità poi sono entrati Gomez è entrato Koulibaly l'unico è Stulaz che ha giocato tutti i 90 minuti vuol dire che c'è va bene così Gomez è entrato ha fatto la sua partita Koulibaly si è impegnato ha lottato eccetera eccetera davanti giochiamo con mancando insignia giochiamo con Di Francesco un guizzo continuo perpetuo continuo a correre a saltare l'uomo dall'altra parte Checco che si impegna lotta come sempre e davanti Matteo Luigi Brunori Matteo che dopo quattro partite non ha ancora segnato e vedo già i commenti dei oh mio dio Matteo Brunori che ti è successo ragazzi dopo quattro partite dopo quattro partite abbiamo segnato con sette marcatori diversi sette perché ieri ha segnato Leonardo Mancuso e non è un problema perché ieri Matteo ha fatto un'ottima partita gli è mancato soltanto il gol l'ha sfiorato è uscita per pochi centimetri ma non deve essere un'ossessione stiamo tranquilli Matteo si sbloccherà e se segnano gli altri ragazzi significa soltanto che la squadra gira bene va bene così ieri poteva segnare chiunque ha segnato Mancuso Mancuso che è un attaccante che se si sblocca e viene messo nelle condizioni Mancuso i suoi gol li fa guardate quanti gol ha fatto Mancuso in Serie B in carriera è un attaccante che i suoi gol li fa e sono certo che ieri si è visto che aveva la voglia giusta quando è entrato è entrato anche Edo poi ovviamente Edo non può non entrare ragazzi Mancuso è entrato all'ottava su ogni pallone e sono contento che l'abbia sbloccata lui perché se l'hai meritato se l'hai meritato ma non è tanto l'importante chi segna ragazzi l'importante è il collettivo noi quest'anno dobbiamo capirlo più di qualsiasi altra stagione quest'anno il collettivo sarà la cosa più importante lottiamo tutti insieme al gol sono esplosi tutti tutta la panchina ad abbracciarsi lì davanti al settore non occupato da nessuno perché era il ristrutto scusatemi il ristrutturazione se non sbaglio ho visto tutta la panchina alzarsi e correre verso quell'angolo lì c'è stata confusione hanno era Tullio quello era il nostro fotografo quello che hanno calpestato un bordello ragazzi bellissimo io della partita non è che abbia visto molto perché tra bandieroni cori eccetera ho visto quello che dovevo vedere perché sempre così quando si va in curva o in trasferta o in casa si va per cantare per incitare per saltare per gioire per e fidatevi e non l'ho ancora visto perché adesso andrò a montare il video se siete arrivati fin qui voglio che mi scriviate insieme al vostro commento ci deve essere una parte finale che ho scritto aspetto la reaction non ho ancora visto nulla delle immagini di ieri ma l'esultanza al gol ragazzi che mi ricordo come se fosse in questo preciso istante è stata clamorosa è stata clamorosa perché soffrire per 90 minuti con dall'altra parte Nestorovski Gnauré tutti i nostri ex del mondo e comunque Lucioni e Ceccaroni hanno praticamente nascosto qualsiasi opportunità Pedro Mendes Nestorovski e compagnie bella e poi segnala al 93 ragazzi è stato stupendo emozionante io vi invito vi prego lo so che molti che mi seguono sono di Palermo ma so che siete tantissimi seguimi da fuori so che ci vediamo spesso in trasferta ma se c'è una sola persona di voi che non è mai stata una trasferta e abita al nord e ha la possibilità vuole partire vuole esserci vuole seguire una partita potete scrivermi tranquillamente su Instagram scrivetemi ci vediamo andiamoli insieme ce la curiamo insieme tutti insieme perché ragazzi le trasferte sono veramente meravigliose un onore un ringraziamento alla 12 a tutta la CNI pure alla Curva Sud che è partita tutti perché ieri allo Stare Lascolo c'era la Curva Nord 12 la CNI e la Curva Sud tutti insieme lì a tifare a cantare per un unico obiettivo obiettivo che ieri ci siamo portati a casa i tre punti ma l'obiettivo primario è sempre soltanto uno esserci e stop raga un bacione a tutti adesso venerdì c'è la prossima poi c'è il turno di frattemana con il Venezia partita a cui purtroppo non potrò assistere perché lavoro finisco di lavorare troppo tardi e poi ci sono quattro ore praticamente per arrivare allo Stare di Venezia alla casa mia quindi non ce la farò e mi dispiace però raga tutti insieme soffriamo gioiamo sempre solo Forza Palermo ditemi la vostra con un commento qui sotto grazie a tutti un bacione ci vediamo alla prossima e mi raccomando iscrivetevi attivate la campanellina dai cazzo ciao ciao ciao